Ciao Teo, mi chiamo Roberto Bonanno, ho 31 anni, abito a Rurate Cacivi in provincia di Como. Ho una paura terribile dei reti, ma puoi partecipare a Distraction? Questo lo faccio per te, guarda! Paola? Mamma mia... Oh! Sono tremando! Toggo, togo, togo Togga, togo... Ratetti quanti... Matetti quanti! Scusita la vocera più... Terrificati... Deo lo faccio per te Ciao